numero 5 catena di luci decorative a forma di stella lunga 7 metri e mezzo funziona con tre batterie a non incluse nella confezione la catena è di alta qualità a due modalità di illuminazione il contenitore della batteria è impermeabile sicuro da usare sia all'esterno che all'interno ottima qualità a basso consumo energetico la luce è sicura non contiene raggi uv e infrarossi le 50 stelle a led di colore bianco caldo producono un'illuminazione eccellente e una calda atmosfera trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 bellissima catena con led a forma di fiocchi di neve questi led creano una calda atmosfera natalizia i fiocchi di neve sono realizzati in plastica di alta qualità solida e durevole ideali per esterno ed interno la scatola delle batterie non è impermeabile si consiglia di tenerla in un luogo asciutto questa catena luminosa è alimentata da tre batterie a non incluse nella confezione in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 catena luminosa natalizia con 100 led contenuti in 10 lampadine alimentata batteria in classe di efficienza energetica più più dotata di due modalità di luminosità per un effetto festoso e romantico le luci decorative a led sono di alta qualità il vano batteria è impermeabile la catena ha una lunghezza di 3 metri necessita di tre batterie a non incluse nella confezione ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 catena di luci lunga 10 metri con 80 lampadine alimentata da batteria le piccole lampadine bianche a luce calda creano un'atmosfera romantica una perfetta decorazione per camere balcone finestre muri dotata di due modalità di illuminazione alimentata da tre batterie a non incluse nella confezione il filo è in pvc impermeabile le lampadine non si surriscaldano durante l'uso e funzionano stabilmente sono sicure al tatto le piccole lampadine realizzate in plastica traslucida hanno una migliore trasmissione della luce sono molto resistenti se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 catena luminosa di natale fuochi d'artificio luce decorativa per esterno ed interno dotata di batteria e di telecomando per regolare 10 luminosità e 8 diverse modalità il filo di rame è di alta qualità e ad alta flessibilità la batteria non è inclusa nella confezione ad alta impermeabilità queste luci sono colorate ma sono disponibili anche nella versione luce bianca calda o fredda se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione per il nostro canale